Il comune è coinvolto in una fase decisionale, arrivano i profughi, telefonata all'E4 per comunicare le serie con i profughi. Quando dico San Zenone, non intendo la stazione, se fa anche il catechista, non è prostituzione, studia leggi, diritto to e costituzione, è il prodepalavino di questa istituzione, con San Zenone domani che una lista civica, Sergio Fedeli amministra la politica, profughi nei feudi, una situazione critica, col suo destriero dalla pappa vitaminica, accoglie lo straniero nel regno lodigiano, lo mischia con il clero di Sordio e Tavazzano, nei campi e magese di Dresano e Mulazzano, fedeli cui fedeli punta anche al Vaticano, col giavellotto ti trafugge, se bestemmi comerini, con la Susi insegna guelfi e gli bellini, mangia arancini con gli alpini travalli e appennini, al comune di San Zenone, cia vassalli e vassallini, a Refuge, find us out today, will be reviewed at the police station for this today, during February and March, this creates tension anyway. Good morning first of all, I'm Sergio Fedeli, every other mayor, tomorrow will be out shown, good morning first of all, I'm Sergio Fedeli, who the living world, gets from Sergio the tombstone, good morning first of all, I'm Sergio Fedeli, is called Cafe Veronica, using mobile phone, good morning first of all, I'm Sergio Fedeli, the greatest mayor, of Saint Zenone. Le ragioni della candidatura non sono da ricercare, in un'ipotetica situazione assai conflitto, ale, con il sindaco attuale, o con la giunta comunale, e col mandato quinquennale, sei chiamato per votare, per le europee per la provincia, ale, 6-7 giugno, e ti regalerò un puntale, tu vota per fedeli, con delega alla cultura, per la prefettura, per l'istruzione, per la prefettura, con il moe scudo e la biondata pigliatura. Notati quindi, il 6-7 giugno, per la lista San Zenone. Paese che vuoi, è una minoranza, di cui un componente della cittadinanza, è stato messo nella maggioranza, modificando dei cittadini l'indicazione, per finanziare il terzo stato a San Zenone, da Valinsulo, vota pure la Brunella, gli cede il posto pure Sergio Mattarella, da il salario ai contadini, mezzogiorno, Arianna Tronconi, gli può fare da contorno. A refuge, finds out to the family, will be reviewed at the police station for the family, during February and March, this creates tension anyway. Good morning, first of all, I'm Sergio Faithful, every other mayor, tomorrow will be out shown, Good morning, first of all, I'm Sergio Faithful, who's on the living road, gets from Sergio de Tumstron, Good morning, first of all, I'm Sergio Faithful, he called Catholic Veronique, using mobile phone, Good morning, first of all, I'm Sergio Faithful, the greatest mayor of St Zenone. In questi cinque anni ho cercato di svolgere un lavoro nell'intesse della collettiva. Chi mi conosce sa quale impegno ho messo a disposizione. Io ho chiesto, a fin dell'inizio, di mettere in condizioni i prof, quindi prestare delle attività nell'interno delle strutture comunali, in modo tale che loro si rendono utili.